Eccoci qui amici di Ciocomo, buongiorno, un caro saluto, siamo a Cernobbio in diretta, non all'esterno perché piove fortissimo oggi, è una giornata veramente infernale, però c'è con noi qui il sindaco Matteo Monti ancora con la divisa ufficiale, con il giubbotto della protezione civile, buongiorno sindaco, buongiorno, facciamo un po' il punto della situazione e sindaco alto fianco ci sono anche vice sindaco Ferradini, buongiorno Mariangela e l'assessore Mario Delatore, buongiorno, buongiorno anche a te. Allora, direi che adesso è una settimana esatta da questa frana, siete un po' più tranquilli, avete fatto parecchia roba, tra cui adesso c'è una notizia proprio di poche ore fa che ha questo ponte, sindaco facciamo il punto della situazione. Allora io mi sento in dovere di ringraziare che sono qua con me, il vice sindaco e l'assessore che erano i primi a essere arrivati sul posto, poi la situazione è stata delicatissima, perché poi in un primo momento il vice sindaco vuole avere la certezza che non ci fossero macchine e persone sotto la frana e quindi magari lascio un attimo di spazio a chi vuole dire due minuti, perché la sensazione, la delicatezza in quel momento lì è stata importantissima ma è stata una settimana anche difficile. Sì, difficile perché comunque affrontare una frana in tempi rapidi, perché questo è quello che ho sempre detto, dando dei giorni fissi di quello che si voleva dare, l'abbiamo garantito perché davvero ognuno ha il proprio ruolo, quindi sia il vice sindaco e l'assessore ma tutta l'equipe del comune, quindi dagli operai, dal responsabile, da chi ha voluto garantire, dalla comandante della polizia locale, ti ringrazio in tutto questo ruolo, ognuno nel suo ruolo, ha cercato i tanti e soprattutto, lo dico qui, i residenti della frazione di Rovenna, cioè questo hanno risposto subito a creare, io la chiamo sinergia. Ecco, diciamo questa volta senza polemiche, tutti assieme a fare squadra, è così? Sì, certo, a prescina dei ruoli, lo dico qui perché anche i consiglieri comunali, chi magari un po' meno, chi di più mi ha chiamato e mi ha detto sindaco è meglio passare dalla via Colonna, sindaco è meglio accendere la luce in più, sindaco attenzione a questa cosa qua e questo ha permesso di ognuno nel proprio ruolo, però io citarrei le due parole del primo momento che erano lì, perché questo è la... Mariangela, allora, che cosa è accaduto? Ecco, nell'immediatezza il sindaco era via, lo diciamo. La prima volta. La prima volta, certo. La prima volta, ma era via per lavoro, non è che era via per... Ecco, mi hanno chiesto di andare via per le ferie e gli ho detto stacco qualche giorno e questo è. Mi hanno chiamato alle nove, dopo le nove di sera i carabinieri, la preoccupazione immediata è stata che ci fosse qualche persona o anche qualche auto che fosse rimasta sotto, mi hanno subito al telefono detto di stare tranquilla che non c'era niente, però io ho chiamato l'assessore della torre, siamo andati immediatamente alla frana e poi ci hanno spiegato appunto da dove veniva prima di tutto la loro sicurezza che non c'erano feriti, sicurezza che veniva dal fatto che la frana è stata vista da una persona proprio mentre succedeva, per cui hanno potuto assicurarci che non c'erano persone, non c'erano neanche mezzi sotto. Beh, a quel punto lì, poi abbiamo chiamato subito il signore. Eh sì, giusto, perché lui è partito subito. E' partito, ci ha aiutato anche durante il viaggio con i contatti e basta, poi è arrivato lui e abbiamo tirato il pilo di solito. Ecco, sentiamo anche Mario della Torre. Abbiamo sicuramente supporto importantissimo dei vigili del fuoco che ci hanno rassicurato in tutte le prime operazioni, avevamo anche supporto della nostra polizia locale, dei nostri tecnici, quindi panico sì, ma relativo, effettivamente è stata una cosa secondo me gestita anche in quella fase lì bene, si siamo attivati subito con la segnaletica, bloccare le strade, le verifiche, gas, Enel, insomma la macchina si è mossa subito e senza intoppi diciamo. E da lì, niente, è partito poi tutto lì perché è seguito. Si può dire che insomma, poi anche come ha detto il sindaco, in effetti anche i residenti che alla fine, all'inizio immagino avranno avuto un momento di sconcerto perché sai, per stare bloccati. Abbiamo incontrati subito comunque, anche la sera dopo, siamo saliti. Ci avete parlato su, quindi sì, 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 mi fa piacere oggi il sindaco, l'assessore, ovviamente Matteo, il sindaco di questo incontro perché mi pareva anche giusto poi fare un po' il punto della situazione in questi giorni, non se ne abbiamo potuto farlo di più, però ho capito ovviamente che stavate facendo e lavorando per i cittadini. Sindaco, diciamo adesso cosa succede, forse già domani? Sì, sì, succede questa cosa qui che dicevo il giorno dopo, il 21 novembre abbiamo provveduto tramite gli uffici ad affidare somme urgenze alle imprese, quindi l'impresa Petazzi è partita subito per intervenire sul posto e ringrazio l'impresa, ringrazio anche l'impresa Tracer che sono state le prime ad intervenire e mettere in sicurezza per cercare di capire qual era, ma la roba più importante è stata quella che comunque gli uffici ci hanno seguito e l'Umedì abbiamo provato in giunta una variazione di bilancio di ben 350 mila euro. Questi sono soldi che arrivano dall'avanzo di amministrazione ma anche una modifica di capitoli e questo non va a modificare i servizi che finora abbiamo garantito per l'ente e anche è una cosa extra, sono risorse che erano in questo momento riservate e utilizzate nel momento di emergenza e questa è un'emergenza direi vera e propria. Ma la cosa più importante è che comunque domani, grazie alla protezione civile della provincia, quindi grazie a Tiziana Arena di questa iniziativa e grazie anche a qualche consigliere comunale che mi ha proposto di dire attenzione, i cittadini hanno detto sindaco non si può fare un ponte e da lì abbiamo cominciato con gli uffici a capire come fare questa cosa. È un ponte veli, cosa vuol dire? È un ponte dell'esercito militare dato ad un'associazione di protezione civile dove oggi c'è il gatto nero, quindi poco dopo il ristorante sarà montato un ponte per una lunghezza di ben 40 metri collegabile con la via 24 maggio. Quindi si scavalca la frana? Si passa completamente sopra la frana e lo dico qui, sulla frana transiteranno solo veicoli, i pedoni non potranno transitare, perché? Perché è un problema di sicurezza che i pedoni non si potranno fermare a visionare il cantiere, perché il cantiere come abbiamo detto deve avere tempi certi, veloci e riaprire la strada più in fretta possibile. Poi sicuramente questo porta a un disagio perché ieri sempre nella giunta, in tutti gli atti fatti, abbiamo fatto un incontro con la preside e chiuderemo già a partire da venerdì questo, l'asilo di Rovenna, perché è proprio lì dove c'è il cantiere e lo dico qui, non è un problema di sicurezza dell'asilo perché l'asilo non ha problemi strutturali, ma è un problema di sicurezza del cantiere per permettere all'impresa di lavorare in sicurezza. Anche una tempistica, ho visto che tu hai già usato anche i social, hai detto 12 giorni? Da ieri 12 giorni, quindi oggi sono già 11. Voglio dire, mi pare che da questo punto di vista poi ognuno potrà dire quello che vuole, però sulla concretezza non si può dire nulla. Ci siamo, ci siamo. Poi ecco, tempo permettendo perché anche adesso... Adesso sta diluvianto. Ormai abbiamo i telefoni sotto controllo. Ma domani le previsioni sono migliori. Domani le previsioni sono migliori, alle 8 è previsto il passaggio di mezze, quindi anche qui chiedo ai cittadini, e questo stiamo facendo il comunicato oggi, di non parcheggiare e capisco il disagio, ma permetteteli, è meglio essere in sicurezza piuttosto che parcheggiare, di lasciare libero il tratto di auto dal polirono fino alla frana, per permettere il passaggio dei mezzi pesanti. E dico questa cosa qua perché? Perché ho assunto un'ordinanza di diritto d'accesso di 3,5 tonnellate e obbligando anche l'impresa incaricata dal nostro ente di fare una relazione geotecnica per essere in sicurezza il transito. Quindi questa era da fare, giustamente perché i cittadini, anche a Gorà, ci sollecitava questa iniziativa e abbiamo dato anche qua risposte concrete. Assumendo un atto, che il sindaco ha assunto un atto, mi diritto d'accesso. So che creo qualche disagio perché alle imprese che stanno lavorando sicuramente ci sono, ma la sicurezza dei miei cittadini e delle strade è prioritaria. E sappiamo anche che la Via Libertà ha comunque più di 100 anni, è stata realizzata nel 15-18, quindi oggi siamo nel momento culmine di questa costruzione. Come vedo che qui c'hai da venti la regione Lombardia. Ho voluto un po' cercare nei documenti che erano qua, era questa richiesta di contributo. Alla regione Lombardia. Abbiamo richiesto subito e qui... Questo vorrei appunto precisare anche questa cosa. Sì, anche qui ci sono risorse che la regione Lombardia accantona per le somme urgenze, e quindi subito nella notte tra il mercoledì e il giovedì la mia responsabile Sabrina Mascono si è attivata per chiedere schede RASDA, si chiamano, le richieste di contributo alla regione Lombardia. Quindi avete fatto anche questo. Abbiamo fatto anche questo. Mi sembra molto interessante. L'unedì mattina e ringrazio i responsabili di UTR, quindi l'Ufficio Tecnico Regionale, di essere venuti in loco, di essere intervenuti e di accertare quello che realmente era avvenuto. Avrei preferito aver qua ragione Lombardia per qualcos'altro, ma invece è qua questa somma urgenza. Perfetto. Anche loro hanno risposto in tempi rapidi e un'altra cosa che vorrei aggiungere è che comunque ognuno ha il proprio ruolo, quindi ringrazio anche SF, perché abbiamo insieme a loro collaborato e messo risorse in contemporanea, perché garantiamo il servizio fino alle 20.50, quindi dalle 6.35 del mattino fino alle 20.50 con le navette, più abbiamo messo una navetta che va da Toldino Gatto Nero fino ad arrivare alla frazione di Rovenna e un'altra cosa, dalle 6.30 del mattino alle 24 è garantito con o cooperativa incaricata da noi e i volontari che garantiscono questa viabilità alternativa. E qualche lamentela c'è stata, perché è sicuramente dovuta all'agitazione che c'è stata nel momento, ma dico usate il collegamento con la via Montesanto il meno possibile, perché la priorità è davvero con i tempi che vi ho dato di aprire e dare questo risultato concreto. Quindi diciamo che entro i primi dieci giorni di dicembre, facendo i conti, i tempi, dicevo, potrebbero essere per il weekend del 7-8-5. Quindi tra il 7 e l'8 si potrebbe aprire questo ponte che quindi permetterebbe lo scavalco, poi ovviamente bisognerà inserire... Un semaforo unico semplice, un senso alternato, computerizzato con un semaforo che permetterà finalmente di mettere anche in sicurezza il collegamento tra Casnedo, quindi via Noseda, via 24 Maggio per arrivare alla frazione. Quindi questo aiuta anche a sensibilizzare un percorso di... Cosa che vorrei aggiungere è che comunque tutta questa attività che i consiglieri comunali che abitano a Rovenna mi hanno segnalato che è il disagio della mancanza di dominazione pubblica e quindi anche qui in tempi rapidi con Enel stiamo intervenendo per sistemare la dominazione pubblica della frazione. Quindi dico tutto questo lavoro perché credetemi... Ti porto anche tratto i saluti del tuo collega Simone Moretti di Olgiate che ti saluta con affetto ovviamente. Grazie Simone, ho avuto messaggio anche lui. Esatto, tanti amministratori mi pare che sono... Adesso però io dico agli amministratori, quindi alla provincia, alla regione Lombardia di aiutarmi ancora di più in questo momento qua perché io ho voluto dare sguardi concreti, adesso i miei cittadini chiedono di continuare in queste quindi chiedo agli enti superiori, quindi a regione, a comunità montana, alla provincia a chi ha risorse che possono arrivare dai fondi frontalieri aiutate in questa attività perché la via Libertà comunque è una strada che porta verso il Bisbino ma che porta anche verso la frazione Svizzera quindi credo che le risorse che possono poi arrivare anche se noi ce le abbiamo, portate in questo. Direi che abbiamo fatto il punto della situazione qui dal comune di Cernobio dove ci troviamo in questo istante saluto e ringrazio anche Mario Della Torre, Mariangela Ferradini, il Vice Sindaco grazie al Sindaco per la cortesia perché era anche giusto e importante far chiarezza far sapere alla gente che cosa state facendo quindi l'appello conclusivo domani evitate di lasciare le auto perché devono passare lungo la via Libertà, evitate completamente di lasciare le auto domani mattina è importante quindi e poi da domani si parte per la costruzione del fondo vedrete come vi ho detto in tempiera allora domani ci saremo per vedere anche questa novità che riguarda Cernobio certo come dicevi Sindaco avresti preferito aver qui la gente e i giornalisti per altre ragioni però purtroppo questo è grazie allora davvero al comune di Cernobio per averci ospitato quest'oggi buongiorno grazie grazie a tutti